Ciao ragazzi e ciao ragazze! Allora, nuovo video! Questa volta continua la seconda parte della terza storia d'amore e vi ho lasciato, lo so, malissimo, infatti i vostri commenti erano tipo, nooo, perché? No, voglio la continua! Oggi addirittura il messaggio su whatsapp di Chottolins che ovviamente adoro e saluto! Quindi sì, sono qui per raccontarvi la seconda parte della terza storia d'amore. Per chi si fosse perso la prima parte metterò il link giù nel box informazioni oppure comunque farò aprire una finestrella qui. Sì, perché mi rendo conto che ovviamente vedendo la seconda parte può sembrare molto ma molto confusionale come discorso, come storia. Quindi iniziamo subito! Allora, io vi ho lasciato che praticamente dopo diversi mesi avevo deciso di dichiararmi e quindi quel giorno durante quella santissima festa avevo deciso di dire a Remo che mi piaceva ed era lui questo ragazzo perché non l'aveva capito il primo giorno. Quindi appunto il secondo giorno ritornando a fare un'altra festa iniziai a riprendere il discorso con Remo dicendogli guarda ti ricordi ieri che ti dissi in tutto questo però ecco voglio aprire una piccola parentesi. Per me diventava sempre più difficile perché è ovviamente impossibile. Io mi ero decisa troppo tardi quando loro dopo appunto sei anni avevano deciso di andare a convivere. Chiudo parentesi. Io dissi a Remo dissi a Remo dissi ricordi quello che ti ho detto ieri? Sisi mi fa beh gliele hai fatto capire e gli faccio e no e come faccio a farlo capire? Cioè io ci provo però lui non capisce disegnino disegnino e lui mi fa vabbè dai insomma prova a farlo capire in qualche modo anche anche io a Lily rispondo. Remo facciamo così prova di medessimarti tu in quello che potrebbe essere lui. Tu al suo posto cosa avresti fatto? Lui mi guarda e lì diretto spontaneo e non ci ha pensato due volte mi fa io per come sono fatto io ci sarei stato. In quel momento si divide Valentina in due parti ovvero la prima parte mamma mia che bello sono felicissima sono al settimo cielo cosicola. La seconda parte cioè ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta la seconda parte ma guarda sto stronzo cioè guarda questo animale questa merda umana che cosa cioè perché ovviamente io da persona che in passato è stata fidanzata non posso che pensare di un uomo fidanzato che fa un determinato una determinata azione non posso che pensare guarda sto stronzo. C'è da dire in tutto questo che ovviamente sì gli errori si fanno in due beh io tengo a precisare sempre che io ero quella single e lui era quello fidanzato quindi un no voglio dire non costa assolutamente nulla. Ok quindi che succede? succede che lui ovviamente ha capito e mi fa appunto fossi stato io ci sarei stato. Ah ok li faccio io quindi quando ci vediamo? E lui la inizia a sorridere inizia a non parla più di tanto finiamo la festa e la mia amica si accorge che Remo mi spia dal camerino dalla tenda del camerino mentre appunto mi stavo cambiando la maglia con il luogo del locale anche quando siamo uscite io e queste mie amiche mi fa oh Channel ma quello stava guardando. Li faccio sì Anna ti devo dire una cosa li faccio sentire la registrazione perché io sono stata veramente non so non so che cosa mi è preso in quel periodo ero diventata una pazza una pazza io avevo registrato Remo mentre mi diceva che ci sarebbe stato perché io ero quasi convinta della risposta che mi avrebbe dato quindi loro nell'ascoltare la registrazione mi fanno no le mie amiche cioè tu sei assurda come hai fatto come hai fatto? Cioè non ce lo devi dire perché è assurda come storia. Li faccio ragazze non lo so comunque è andata così glielo ho detto in questa maniera glielo ho spiegato così registrazioni che purtroppo non ne ho più perché vi racconterò allora poi è successo che praticamente il 7 più o meno l'8 mattina mentre stavo con una nemica mi arriva un messaggio Channel Domani devo andare a casa massima a cambiare a prendere il pacchetto delle viti per la scarpiera perché lui anzi loro avevano acquistato una scarpiera e mancavano insomma delle viti vuoi venire con me? anche io gli dico di sì non vedevo l'ora assolutamente di uscire con lui e ovviamente l'adrenalina in quel momento sale in quella circostanza sale però attualmente vi dico io non farò mai ricapitare una cosa del genere se mai un giorno mi dovessi lasciare con Remo non ricapiterà più cioè lo prometto lo prometto non ci proverò mai più a fare una cosa del genere quindi l'adrenalina sale io ricevo quel messaggio al settimo cielo cioè alla mia amica guarda io domani devo vedermi con Remo domani mattina bellissimo così colò lui giustamente disse però io ho paura cioè ti devi mettere una scosta casca cioè non mi metto una scosta da nessuna parte prendiamo la mia macchina cioè intelligenza astuzia ci vuole prendiamo la mia macchina è nera è nera nessuno va a pensare mi tolgo i miei bracciali perché faccio troppo rumore nessuno va a pensare che tu stai in quella macchina fatto sta che alla fine mi sono abbassata io comunque nella mia macchina arriviamo cioè lui arriva con la sua macchina la sua ragazza va a fare il corso e lui viene a prendere me mette la sua macchina dietro casa e prendiamo la mia cioè alle 8 di mattina io con la con la gonna gli occhiali tutta la mia pucchiata assurda arriviamo a casa massima io ne approfitto vado alla coin vado alla coin e acquisto delle yankee lui invece va all'Elon Merlin e va a prendere appunto queste benedette viti messaggio ci rivediamo alla macchina saliamo e vabbè si va in un posto insomma sperduto di turi di turi arriviamo lì però attenzione arriviamo lì e nel momento in cui lui spegne la macchina io l'ho così a un certo punto gli faccio primo sei sicuro cioè tu sei proprio sicuro lo so che in quel momento questo non si dovrebbe fare io l'ho fatto se no non va bene se no non sono io se no non sono io cioè ho avuto vi giuro un ripensamento ho detto me sto a pentire me sto a pentire brutto ma brutto 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 devo fare qualcosa per bloccare l'andazzo qua allora gli faccio Remo sei proprio sicuro è lui cioè io mo quella single sei sicuro non è che ci vuoi ripensare facciamo che non succeda niente cioè io mo lui sì perché qual è il problema ma dimmelo tu qual è il problema insomma Remigio e insomma che succede? succede che io là mi sento male un po' un mancamento solo a me ovviamente solo a me poteva capitare mi sento male nel senso che insomma dire no io ho aspettato tutto sto tempo e ora che cosa che cosa mi sta prendendo non voglio fare più nulla perché perché ok un cane c'era un cane vuoto mo vengo denunciata per atti uscire in luogo pubblico vuoto e un cane il vuoto totale e vabbè poi a un certo punto io faccio vabbè non cioè gli faccio capire che in realtà non volevo fare più nulla cioè per me avevo già vinto ok avevo già vinto però ormai era diventata non so più cos'era diventata ve lo giuro non so più cos'era diventata ce l'ho fatta era in quel momento ce l'ho fatta però mi sto pentendo e so che magari potrebbe andare a finire male potrebbero succedere delle cose brutte quindi conoscendomi sapendo che io sì ti posso mantenere un segreto tutto quello che vuoi ma conoscendomi ho pensato subito il giorno dopo che io andrò a lavorare non avrò assolutamente il coraggio di vedere quella che era la ragazza cioè non ce l'avrei fatta quindi mi metto sul mio angolino e cioè sul mio lato di macchina sul sedile e mi sto un po' così diciamo per i fatti miei perché lui si avvicina mi bacia e poi succede quello che succede ovviamente a ritorno a casa li faccio Remo ora se tu entri su whatsapp io da ragazza mi chiederei perché questo è su whatsapp cioè se lo vedo frequentemente su whatsapp online mi chiederei ma ce stai facendo c'è qualcosa che non va mi nascondi qualcosa perché ci viene la generata di sentirci su Viver Viver come si chiama lui non lo so pronunciare e quindi ci viene la generata di sentirci di sopra perché appunto non risultava l'ultimo accesso se non la scritta online spero che luce non cali più di tanto e quindi iniziamo a sentirci lì iniziamo a parlare lì avevamo i nostri orari ovvero ci sentivamo alle 2 più o meno a 2.30 perché appunto la ragazza vedeva tipo beautiful e cento vetri non so che cosa c'era perché non lo seguo amici insomma uomini e donne non lo so perché non lo seguo e lui andava in bagno e quindi ci sentivamo alle 2 per 10 minuti nel tempo di andare in bagno ecco sostanzialmente e ci sentivamo la sera quando entrambi uscivamo dallo stesso locale anzi tutte e tre uscivamo dallo stesso locale e lui cercava posto con la macchina e lei ovviamente saliva sopra quindi nel frattempo mi mandava dei messaggi ci sentivamo così anche quella sera però quella sera quindi dopo quello che era successo non so che cosa mi prese ovviamente io a raccontarlo agli amici e c'è da precisare che queste cose è meglio non raccontarle a nessuno perché potrebbe arrivare all'orecchio sbagliato e alla persona sbagliata a me è andata un po' di culo però va bene però va bene meglio non raccontarle a nessuno ecco che è successo è successo che quella sera poi con le mie amiche nel raccontare fanno cioè è assurdo tu sei pazza tu sei fuori di testa tu sei vieni sgamata cioè sei vieni scoperta succede il casino io ormai ero hole in proprio cioè non potevo fare più niente quindi li faccio stasera andiamo al locale andiamo al locale nel frattempo qualche giorno prima io stavo sentendo il mio ex ma non per ritornarci insieme stavo sentendo il insomma Giuseppe così così e anche io il giorno qualche giorno prima insomma comunque loro pensavano che io uscissi con Giuseppe perché su facebook avevo scritto un post un po' particolare tipo rigenerata dopo sei sette mesi e e quindi quando arrivai al locale la sera per rivederlo perché lo volevo rivedere ovviamente io avevo un'ansia assurda perché faccio oddio mo se me la ritrovo lì la ragazza cioè che cosa arrivo lì e c'era la suocera perché questo era un locale a conduzione ve l'ho già detto a conduzione familiare quindi c'era la suocera c'era lui c'era il suocero e c'era la la cognatina entro dentro la titolare la la suocera mi fa oh Valentina ti vedo rigenerata ti vedo se ho letto su facebook sei andata a fare i tuoi con il tuo ragazzo io molli sì sono andata però l'ho già diventata allora li faccio sì sì sono andata vabbè ma sì dettagli allora la mia amica ora ora ho detto così sembra molto confuso però in quel momento ci sono state battute ecco diciamo che era un po' più di casa la situazione quindi sono volate battute così proprio eh siamo andate a fare i chezzi tuoi con i tuoi ragazzi allora la mia amica sì cioè l'ha rivoltata la macchina allora lei la titolare fa Remo che in quel momento stava spillando la birra Remo hai sentito l'ha scattata bene bene l'ha fatta rivoluzionare bene bene Valentina in quel momento tutte e due bordo bordo completamente a un certo punto io faccio le mie amiche raga andiamo prima insomma viene lì perché conoscendo io invece conoscendomi se ho un problema lo do a vedere cioè si vede cioè se io ti sto mentendo si vede non riesco a dirti una cazzata così come voglio dire che apro più una piccola parentesi che dopo inizialmente mi piaceva veramente altrimenti non ve l'avrei mai consigliata ora non ve la consiglierei più fa soltanto calore ma la solo calore perché non ha più odore quindi non sono brava a dire cazzate non sono brava a mentire e in quel momento mi sono sentita proprio di di morire perché vedo entrare lei ragazza io in quel momento ho detto no non ce la posso fare io non ce la posso fare muoce non devo andare in quel momento non potevo che ovviamente dire ciao tutto bene lui cioè io quella che stava lui tranquillissimo 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 mi sento male ovviamente ehm andiamo a un bar andiamo a prendere una camomilla in quel momento io ragazzi non ce la faccio a farla amata cioè raga io la devo chiudere questa situazione non si può non posso andare avanti così anche se è successo una sola volta basta ok ok ora non vede quale non vuole devo cercare di tenere il segreto fino a fine giugno e poi amen e loro mi fanno ma tu ehm muo 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 lasci così hai fatto tutto su casino rischiavi di essere licenziata io faccio sì vabbè non ce la faccio io non ce la faccio più non non fa per me mi sento male io la vedo mi sento male non so come svegarmelo cioè che cosa vi devo dire allora lui le mie amiche mi fanno vabbè stai tranquilla calmati perché magari la prima volta stai tranquilla che ti abituerai a vederla passano i giorni e cioè passa la notte più che altro passa la notte e il giorno dopo dovevo andare a locale a lavorare arrivo a locale vedo lui buongiorno buonasera buonasera tranquilla cioè io non lasciavo nessun tipo di traccia cioè dal mio viso non esprimevo nessun tipo di emozione perché non volevo proprio si scoprisse si sapesse una cosa del genere perché avrei rischiato il lavoro avrei rischiato avrei rischiato avrei rischiato però nel frattempo che succede? succede che io non riuscivo a fare almeno di remo quindi lui poi la sera mi mandava messaggi del tipo domani quando vai a locale attenta a mettere la carta nel bagno attenta a prendere il la balla d'acqua dal deposito quindi io vivevo con la paura che da un momento all'altro lui poteva entrare e poteva fare qualcosa con il suocero all'interno capisci quello che ti sto dicendo e quindi io evitavo cioè lui me lo diceva io evitavo evitavo i posti e quindi anche se lui voglio dire mi piaceva diventava sempre più forte questa attrazione però io nel locale dicevo no non è fattibile sta cosa non è fattibile succede che poi iniziano a passare i giorni e ovviamente la luce sta andando via iniziano a passare i giorni e ovviamente le cose cambiano un po' nel senso ci rivediamo iniziamo a rivederci per un po' di tempo un po' di pedi per un periodo iniziamo a vederci la mattina iniziamo a vederci il pomeriggio un giorno io ho il ciclo ho il ciclo anche quel giorno mi manda il messaggio e lì la prova del nuove gli faccio lui mi fa stasera oggi ci vediamo a tale ora poi lui mi lasciava in un determinato punto della città e lui andava al locale io andavo a casa mia mi lavavo mi cambiavo e andavo anch'io al locale cioè funzionava così ecco com'era quindi arriviamo lui mi manda il messaggio ci vediamo ci vediamo a determinata ora io gli faccio guardare ho il ciclo e lui lì sì ve lo dico nella prossima puntata ve lo dico nella prossima puntata io ragazze spero di avervi tenuto a compagnia il video è durato davvero tanto tantissimo giro l'altro video così appunto vi racconto il resto della storia se il video mi è piaciuto spolliciate se non vuoi parli 3 altri video iscriviti al canale giù nel box informazioni come sempre troverai il link che ti riporteranno a Instagram Facebook Twitter e se vuoi iscrivermi c'è l'indirizzo mail non mandarmi a quel paese arriverà presto un altro video ciao